ciao a te bentornato su final fantasy 7 reperto dentro questo aereo il tiny bronco che in questo momento funge da nave c'è tutta la squadra tutta la squadra tutta sid vincent barrett tifa eris juffi red cloud e kate sit o mio dio sono emozionatissimi non emozionatissimi ok la destinazione è il gol sauser sì però 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 configurazione tattica dimmi che c'è vincent e non c'è vince o sapevo era abbastanza standard torniamo a standard altro anche battuto sia odino sia neobamut quindi le ho messe qui in giro questo anche la materia meteo madonna ok siamo diretti al gol sauser o mio dio corel o mio dio devo andare a fare corel con sid ma non c'è tempo non è ora oh merda madonna che piacere saper la situazione conviene non ti ha Io sono anti-autorità! Ma tanto non li sento! Siddi, io ti voglio bene! Che voglia di volare! Oh merda! Ok, ah no, la direzione non è il Goldshauser, ma è Costa del Sol, perché da Costa del Sol poi ce la faremo a piedi fino al Goldshauser. Non sa come sta Johnny! Per vedere che è là più in colore pensando alla fregatura che ha preso. Non potete procedere con il Tiny Bronco, dove dovete lo metterlo? Uh, di qua! Oh mio Dio! Ormeggiamo con tutta la nave, tutta! Grazie per chcielare Bronco Cruises! Grazie per aver fatto il Bronco Cruises! Credo che era una linea aeree! Cruises? Cosa pensavo fosse Bronco Airlines! Non dopo che le vini si sono inclinate! Serious, veramente apprezziamo di averci spiegato noi. E' la tua più benvenuta! Quasi quattro ci faccio un salto anch'io Vieni con noi Posso venire con voi? Sì, 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 sì Allora andiamo Che bello Dov'è Vincent? Vincent è là Casi quattro ci faccio di testa mia Mi ricorda qualcuno ai tempi d'oro Uno è abbastanza Ti riferivi a me? Oh mio Dio Dopo la traversata dell'oceano centrale sul tiny bronco Ora tutte le zone sono raggiungibili tramite spostamento rapido Tutte! Per partire parla con Sid dal porto e sceglie la destinazione sulla mappa con triangolo Minacciata dalla possibilità di un'altra guerra la popolazione inquieta si trova a dover fronteggiare sempre più problemi Quando vedi una bacheca guarda se ci sono degli incarichi da tutto fare Oh merda Tra eventi e modalità di gioco aggiuntive Che sono veramente troppe Le unità da provare sono tante Dallo G-bike Alla corsa dei gioco Per tutti gli altri giochi del Gold Souser e in giro per il mondo In alcuni casi per poter giocare dovrei soddisfare determinate condizioni Ma mai Ok Tra l'altro qua c'è un'arma Nuovi incarichi nella prateria Juno Nacorel A Gongaga Cosmo Canyon Che è sta cosa? Ok saluta No 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 ti prego Finalmente Dividi sta voce per tutta la vita Ok 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 Ok. Ok. Se non mi importa. Proprio per questo? Sarà molto più entusiasmante. Ma perché? Ma, ma, ma... Hai ottenuto la mappa del re pirata. Salta a bordo del Tiny Bronco e recupera i reperti che il re pirata lasciò nell'oceano centrale. Quando li avevi trovati tutti e quattro potrei trasmutare il leggendario accessorio che accompagnò l'avventuriero in tutte le sue battaglie. Ma io... non voglio. Non voglio. Ok. Ok. Pare che ci siano nuove missioni ovunque. Gongaga. Cosmo. Corel. Nibelheim. Junon. Ancora l'avventura ci sono altri quattro sfidanti di cosa rossa. Ok. Beh, ragazzi. Immagino che questa sarà tutta un'avventura di avventi secondari. E' come se sarà un'avventura di avventi secondari. Facciamo centrale. Genna tra le terre occidentali e quelle orientali con uno stretto attraversato da un traghetto che è quello che giù è una costa del sol. Ma chi se ne frega. Ok. 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 Dunque. Immagino che io debba farle tutte. Tutte. E siccome immagino anche che sarà bello lungo. Ma bello, bello, bello lungo. Credo di doverti dire un bellissimo ed esauriente. A dopo. Ok. Ok. Benvenuti a Calm. Ho deciso di fare tutte le missioni secondarie e registrarle. Così da fare un pochino... Ah! Mi è caduta la... Il lavaggiur nella mano. Va bene. Quindi questa di Calm riguarda il professore. Dov'è secco? Incarico azienda del professore. Ah, è proprio qua a Calm. Capissimo. Va va. Qua. Vediamo l'incarico del professore. Di che si occupa. Ma che... Ma perché? Sì. Siamo una compagnia rispettosa che offre un'incarca. Beh, guarda chi è! Hmm? Becks' business? Questo è il mio posto. E ora, apprezziamo che stiamo cercando di trovare nuovi talenti. Dice, da che sei qui, come potremmo che ti penzillare per un'intervista? Puede bene? Oh, sì. Signale, boss. Sì. Quindi dovresti penzillare? Perchè non lo so. Quindi, servizio del professionista. Prima cosa prima. Qual è il tuo nome? Cloud Strife. Seriosamente? Cloud Strife. Buon nome. Real Poetic. Al prossimo... Sono un tuttofare. Sono un tuttofare. Aha! Un mercato, ti dici? Significa che sei disposto a fare qualcosa, per quanto riguarda bene? Tu vai a trovare un mondo corporativo. Sì. Qui a Becks' business, facendo un'azienda per scatare i fiendi e mantenere i bambini sicuri. Se tu avessi chiedermi con noi, che tipo di sceglie ti porti alla tavola? Ma che te preghi! Elimino le belve! Sì! Potrei votare per lui su questo, signor Presidente! Questo ragazzo può amassare i monstri in secondi. Sì! Come ci ha fatto per noi! Sì! Devo confermare con lui! Ehi! Che cosa succede? Voi! Rifiliamole a lui! Concussioni! Concussioni! Ma che cosa vuoi dalla mia vita? Benvenuto tra noi! Vai su in serio! Non chiedermelo! Non chiedermelo! Potrebbe essere un buon cambio di pace! Tu devi iniziare a portare una masca! Perfetto! Non abbiamo tutti i bambini! Non è un motivo per farsi assumere! In effetti hai tutte le ragioni di questo mondo, Barrett! Dove sono le bestie? Qua! Ok! Andiamo alla fermata dei Chocobo con il Chocobo! Pico! Pico si è tornato! Pico! 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 Qua! Pico! 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 Non puoi scavalcare perché non ti fidi! Vabbè! A dopo! Pico! 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 Buona merda tanpa Pico! Wow! Fai un vorticante che le prenda tutte! Ottimo lavoro ma che diavolo Pronti signorini? Pensateci voi! Ma noi non c'entriamo proprio! Oh mio dio! BOOM! Sto affrontando dei testiti in motocicletta! Perché? Dite voi! Che diavolo vuoi che ne sappia io? Che! 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 Tremato! BOOM! 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 OKAY! BOOM! Ma io non credo proprio! Scusate, rookie, sei fuori! Ma hey, molti bambini come questo! E' un'altra vita! E' un po' di più! E' un po' di più! NexFikers! 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 Una vera vita! Che cosa succede? E' un po' di più! E' un po' di più! La simpatia da parte di Barret è cambiata! Ma mica tanto! Ti fa salare al 40G tutti, madonna! Ok! E' tutto per la prateria! Probabilmente non dovrò più metterci piede! Ora tocca Junon! Vediamo chi c'è a Junon! Dimmi che c'è Priscilla! Io piango di gioia! Sì, praticamente... Ah! Le praterie! Calma! Quanto mi mancherete! Raggiungiamo questa meta! Andiamo a Junon! I caricamenti però sono velocissimi! Che intenzioni ha Ronda? Che intenzioni ha Ronda? Che intenzioni ha Ronda? Non è Ronda? Grazie a questo Lodbrot guy e a sua piccola parola! La città è così rilata che non riesco neanche a stare di guardia! Ronda! Non ho fatto neanche un ciao! Come state? Zero assoluto! Città! 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 Capone! Città! 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 Non ci siamo ristruttati! Siamo scajare! Se ti senti troppo intempiata... Prisayla! Ah! Prisayla... Tanto so bene che è qua Prisayla! È ovvio che è qua! Prisayla! 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 No! Dicono che è grave! Mi sceglia! No, il delfino no! No, in un'altra gara col delfino, ti prego! E ti prego! Batti il record di velocità facendo una nuotata sprint con il delfino lungo il percorso e ti guadagherai l'ammirazione di tutti i bambini della zona. Più palloni fa volare, più il delfino è contento e acquista velocità, ma se urta gli ostacoli rallenta. Come batto il record? Il record è quanto sarebbe, principiante, due minuti. Ma c'è il tipo per te! Grazie Priscilla, ce la farò! Ok 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 Di qua Di qua Ora di là Ora di là Io non ho idea neanche di quale sia il percorso in tutto questo. Buppostino guarda di qua, di là è molto vicino ma tra l'altro qual'è il percorso obiettivo due minuti va bene ma quale sarebbe la fine del percorso non ne ho idea sto ancora continuando dove cazzo era l'acqua il traguardo non è possibile non ditemi che è qua io sono in ritardo di qua due minuti sì faccio schifissimo qui io veramente ok cosa che mi dicono mi sputano in faccia tutti i bambini che fallimento la prossima volta impegnati di più oh merda a dopo scusate ho corso col freno a mano tirato con un R2 premuto sono cretino scusate Priscilla siete contenti ora ho corso ho corso ho corso ho corso è vero è vero come hai è vero lo che ci necessita è un paio di super duper potenti Grazie a tutti. Grazie a tutti, signor. Sì, potremmo venire e mettere un altro show a volte, ok? Un elizir. Sì. Priscila! Priscilina mia! Priscilina mia! Ci sono nuovi incarichi a Junon? Eh? Eh? Come nuovi incarichi a Junon? Ma che diavolo? Ma perché? No, oh, oh. Piano, piano. Come nuovi incarichi a Junon? Ce n'era uno solo! E chi è stavolta? Capito. Settimo reggimento di fanteria! Wow! La gente è la zona del promontore dei crateri lungo la costa sud di Junon è stato vietato. Si chiede agli abitanti della zona limitrofe di non uscire di casa e i membri dell'esercito scinda disponibili di venire in aiuto. Settiamo l'incarico. E dove cazzo lo è? Pronto? Ah, qua. Minchia! Ok. Nulla, praticamente posso soltanto prendere il ciocobo e fare strada verso... Ma no, ce ne sono cinque! No! Con il ciocobo! Vediamo che vogliono. Pum! Ok. Aggiungiamo la strada e percorriamola tutta fin quando non incrocerò gli stronzi. Wow! Io non ho spicciato di mancare cosa! No, no, ero un di qua. Settimo reggimento attenti! Oh, wow, è davvero tu! Capitano, il nostro capitano! Sì, è buono di vedere te ancora, Capitano! Sei qui per offrire supporto? Qualcuno di questo. Sip, rep? Sip, abbiamo raggiunto di contenere una strada per la strada per la strada. Ma il strada per la strada è vero più semplice di più che ho aspettato. Red, sei tu? Iris! Eh beh, sì, certo. Elimina le belve! L'altro... La missione riguarda Iris, quindi... Dov'è? Configurazione tattica... Iris in prima linea! Vienici... Il Condor! Oh mio Dio... Quello è For Condor! PORCA TROIA! PORCA TROIA! Voi altri fatevi indietro! Eh sì, vabbè, attenti, veloci! Junior, le belve sono salite, quindi... C'è la relazione! VOLICIO! VOLICIO! Oli shot! VOLICIO! VOLICIO! incredibile quella è confonda è lì che trovavo la materia della fenice e di ciò tre amato unità zanna rotante iris picchia lo male con le magie potentissime tipo il quira ieri forza dell'innocenza ma è vero posso invocare invochiamo a due ne vuole non c'è un problema eccolo qua odino un doppio dino unità sinergica io soltanto ho rotto un corno cavaliere fuggito se non troviamo e stoppiamo quella fuggito potrebbe uccidere molti civili che un chocobo potrebbe uccidere il fronte stai su? sì bene torneremo a juno il garrison deve essere informato della situazione quella cosa è vero diamo la possibilità e il rickrillo ha la scuola quindi assicurati che la vittoria è vero oh mio dio buona fortuna capitano ok giocobino no ah sei qua ok usa boom dove diavolo è sto posto dove vai seguiamo ma no no seguiamo trilli wow dove stai andando trilli si ecco di qua ecco di qua c'è certo come dire ha recuperato le forze e c'è qua un'aquila perché no due api no c'è un puro bravo vai in estremo puoi andare in estremo per favore scremato scremato wow 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 più piccoli sono più ronti coglioni sono ok red no eris woohoo ok invoca il neo bahamuth wow Ho capito questo... BOOM! Badonna, ne ho BAMUT, quanto sei grosso! Ho scremato! Peccato perché volevo vedere l'ultimo attacco di Neobahamut! Ok... Seguiamo le tracce col Chocobo! Tra l'altro questa missione, come è combinata? Quante ancora tracce devo fare? Dove sei? Qua, nemico subacqueo! Ah, questa è la prossima e l'ultima! Ok... BOOM! Ok... Quanto magia, energia per Kraut Saliamo di... A come no! Chi c'è? Di qua! Di qua! Ti dico di qua! Di qua magari a noio! Dove sei? Trilli! Di là! Di qua! Merda! Ok! Di qua! POM! 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 Trilli! Ovviamente dovevo salire ancora! non svanire è svanita ok dov'è qua ma è mai possibile tutto questo una missione c'è qualcosa da fare la faccio e basta c'è un nemico da combattere benissimo fammi combattere un nemico ok trovato il caballero del lapizzo perciò ok 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 la spada di cloud non serve a un merito bene vorrei andare allo estremo per favore vita sinergica è quella con cloud veloce prima che questo stronti si riprende zanna rotanda capito però mai turn vita sinergica è di nuovo quella con cloud un lato della luna i'm told that the targets been neutralized ma che diavolo ti ringrazio per l'aiuto ok primo perché si è da giù dimmi delle belve dal dipartimento c'è oggi sapete la coalizione non ne so nulla che cosa dimmi della coalizione gli amici della scena hanno formato una coalizione in segreto hanno in comune di voler eliminare la scena ma immagino che i loro ideali e le loro strategie non siano così omogenei ma ci sono anche parecchie cellule estremiste che non scudono di fare vittime tra i civili commetto che la fuga delle belve opera loro non è la missione i nostri ordini sono di neutralizzare l'afferente e in cui siamo successi in trovare il target e mantenere il tutto difficile dopo averte partito con te i nostri chiamati non rispondi questo è vero c'è molti troppi non volevo aiutare perché ho detto che siamo fatti ok ho detto che ho fatto che la situazione potrebbe essere fatto bene oggi devo dire che in tutti i miei più sogni non ho pensato che ho avuto un soldato in me rinchi uno che guarda così semplicemente i terroiristi un uottai un uccionista e un antico a di Noi dobbiamo in casa Noi dobbiamo in casa Gioia Uh Misteri del pianeta per Iris Salute La simpatia da parte di Iris è cambiata Meno male è rimasta sempre perfetta Ok Bene Per oggi è tutto Appuntamento al prossimo video Dove probabilmente devo fare tutte le altre missioni secondarie O gran parte Quanto riusciamo a fare Sono ancora esterefatto dalla visione di For Condor Va bene Ciao